Le giornate del patrimonio culturale valdese metodista questo fine settimana il 13 e il 14 di aprile una lunga serie di appuntamenti anche molto diversi l'uno dall'altro e noi ci facciamo raccontare questa iniziativa da Ilaria Testa dell'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Ilaria, bentornata, ciao! Buongiorno, grazie, sono molto contenta di essere qui a promuovere questo evento che per noi è veramente importantissimo e anche perché questo è l'anno della conferma, insomma le giornate del patrimonio sono state lanciate l'anno scorso avete esordito con questa novità e quest'anno si conferma questo appuntamento che vorrà poi diventare una consuetudine annuale Esatto, allora l'anno scorso grande inaugurazione di questo evento e devo dire già con un certo successo perché chiese e istituti hanno partecipato numerosi quest'anno come dici tu è una conferma nel senso che i numeri ci dicono che più o meno siamo sul livello dell'anno scorso e c'è già una sorta di, non dico abitudine, però comunque qualcuno si era già mosso aveva già pensato, aveva studiato Esatto, perché noi ovviamente cerchiamo di muoverci con un certo anticipo e quindi già durante il sino del 2023 avevamo già lanciato le date iniziato a pensare alla grafica comune e quindi già c'era diciamo del movimento intorno a questa cosa Sì, il desiderio è che diventi un appuntamento fisso, annuale e che quindi negli anni futuri si possa effettivamente continuare e proseguire insomma sempre più numerosi noi speriamo Certo, certo, l'invito ovviamente è quello di un'ampia partecipazione anche per insomma dimostrare la varietà del patrimonio appunto delle chiese metodiste valdesi che a volte è difficile da raggiungere proprio perché è situato magari in luoghi che solitamente o non sono aperti al pubblico o lo sono solo in alcuni determinati momenti e quindi insomma è una modalità poi il patrimonio non è solo fisico, non è solo concreto questo è un punto su cui voi dell'ufficio beni culturali vi soffermate sovente, giusto? Esatto, noi insistiamo sempre nel dire che appunto ci occupiamo di un patrimonio che è fatto di tanti elementi alcuni tangibili appunto fisici che si possono in qualche modo toccare, vedere oppure si può andare direttamente anche sul luogo a scoprirli ma c'è anche tutto un patrimonio di beni immateriali in qualche modo così si dice ed è appunto rappresentato ad esempio solo per farne uno ma dalla musica e quindi ecco che tante sono le chiese che propongono spesso in queste giornate dei concerti proprio per far conoscere diciamo così quella che è la cultura musicale protestante anche a chi magari non la conosce ed è anche appunto un bel modo per coinvolgere in qualche modo anche comunque i membri i membri di chiesa che spesso attraverso cori e altre insomma altre modalità effettivamente esprimono e fanno conoscere questo tipo di patrimonio Certo, quindi un patrimonio culturale materiale, un patrimonio immateriale ma soprattutto c'è tanta buona volontà anche dei singoli membri di chiesa nell'organizzare queste iniziative Assolutamente, devo dire che le giornate sono sempre una sorpresa perché è il momento in cui veramente si mettono in moto delle risorse che offrono veramente tanto insomma devo dire che infatti lavorare su questo progetto è stimolante anche per questo Innanzitutto sì anche per le relazioni che si possono costruire con alcune persone che difficilmente se no uno avrebbe potuto incontrare, vedere o conoscere e poi c'è proprio un entusiasmo quindi c'è proprio questa voglia di esserci di mostrare il proprio patrimonio e quindi anche di lavorare in vista di questo evento che ha proprio lo scopo duplice in un certo senso da un lato far scoprire il nostro patrimonio a chi non lo conosce oppure si è avvicinato da poco magari a questa cultura ma è anche per i membri di chiesa che attraverso questo evento scoprono diciamo così o riscoprono quello che è il valore del proprio patrimonio e quindi diciamo così al di là poi dell'evento stesso dei numeri, di quello che succede per noi è proprio importante il processo tutto quello che viene prima e questo forte legame che si riesce a creare Certo, assolutamente e ognuno fa quello che può lo dicevamo prima fuori onda con Ilaria che c'è una grande quantità di eventi organizzati adesso chi ci sta guardando sul canale 87 del Digitale Terrestre o chi sta guardando lo streaming video sul sito rbe.it vedrà scorrere una mappa adesso faremo scorrere anche proprio una guida molto dettagliata un programma molto dettagliato degli appuntamenti però ecco dicevamo con Ilaria ognuno fa e organizza quello che riesce quindi ci sono appuntamenti più disparati alcuni certo magari più fantasiosi un po' più particolari un po' diversi dal solito altri semplici ma semplice non vuol dire scontato vuol dire invece anche essersi messi nella semplicità a disposizione di questo evento di questa iniziativa con grande passione con grande voglia di fare ecco sì anche perché l'idea delle giornate è comunque di in qualche modo aprire le porte al proprio patrimonio quindi veramente c'è la massima libertà rispetto a quello che ogni realtà può proporre ed effettivamente poi questo si vede diciamo così nel programma appunto di cui parlavi perché c'è davvero di tutto dall'apertura con la possibilità di avere informazioni rispetto ad esempio ai templi che diciamo normalmente a meno che non ci siano attività occulti sono chiusi quindi il weekend è anche proprio per dire per offrire un'occasione in più per vedere questi luoghi e poi però ci sono anche mostre inaugurazioni quindi magari si aspettano un po' questo weekend e questo momento proprio per dire già che devo fare l'inaugurazione la metto in quel momento la metto proprio in quel weekend che secondo me è proprio anche lo scopo diciamo così di questo evento quindi spesso noi lo diciamo non è che dovete inventarvi chissà che cosa se però avete già in programma un'idea un qualcosa approfittatene mettiamola in questo weekend perché c'è anche una comunicazione generale ovviamente che aiuta magari ad avere qualche insomma persona in più certo quindi conferenze concerti mostre inaugurazioni passeggiate templi aperti davvero c'è un po' di tutto e la cosa molto bella Ilaria è che c'è un po' di tutto in tutta Italia esatto come è successo già l'anno scorso e quest'anno come grande novità abbiamo questa nuova sezione del nostro portale tutta dedicata alle giornate da questa mappa si può vedere come effettivamente un po' su tutto il territorio nazionale ci siano degli eventi previsti quindi questo ci fa diciamo così molto piacere perché insomma vuol dire che un po' da tutte le parti la comunicazione ha funzionato e soprattutto c'è la voglia diciamo così di esserci sì quindi da Milano a Palermo passando per Roma Venezia Firenze Genova Genova ce ne sono davvero un po' di in tutta Italia dal nord al sud dall'est all'ovest di iniziative a voi lasciamo ovviamente andare a scoprire quella magari più vicina al vostro territorio quella che vi è più comoda quella in cui magari sarete per un weekend for report e vi farà piacere andare ad approfondire perché appunto trovate sempre sul sito patrimonio culturale valdese.org oltre alla mappa molto facile da utilizzare che identifica proprio geograficamente velocemente il luogo in cui si svolgono gli appuntamenti però c'è anche un elenco proprio dettagliato diciamo scritto che ricorda i tanti momenti di incontro e di partecipazione che dire Ilaria vuoi ancora sottolineare qualcosa di queste giornate? Beh intanto ringraziare ovviamente tutti e tutti quelli che hanno partecipato che hanno lavorato ovviamente per questo evento e dire anche che noi comunque le chiese le facciamo lavorare penso che non e questo anche insomma questo aspetto ringrazio davvero davvero tutti perché noi offriamo la possibilità di creare per ciascuno la propria locandina o comunque il materiale promozionale quindi diamo dei file che si rispecchiano quella che è la comunicazione generale ma poi ciascuno la sua comunicazione se la deve fare e preparare devo dire che sono arrivate anche in questo sono stati bravi sono stati molto molto bravi quindi davvero insomma siamo contenti anche da questo punto di vista comunicazione dell'ultimo minuto se ne possono ancora aggiungere è vero che la scadenza risaliva qualche settimana fa magari qualcuno è rimasto un po' in affanno va bene lo stesso nel senso che noi siamo comunque felici se appunto si può approfittare di questo weekend chiediamo solo un attimo di pazienza perché c'è un tempo tecnico per inserire ovviamente l'iniziativa sul nostro portale però assolutamente insomma se c'è ancora qualcuno che si vuole aggiungere è ben volentieri bene allora io ringrazio Ilaria per essere stata con noi grazie Ilaria Testa ricordo sul sito patrimonio culturale valdese tutte le informazioni che possono esservi utili per scoprire qualcosa di più rispetto a queste due giornate due giorni questo weekend il prossimo weekend 13-14 aprile giornate del patrimonio culturale metodiste valdese sensibilizzare ed educare al patrimonio e alla memoria ah forse potremmo ancora aggiungere che quest'anno si unisce anche l'ottocento cinquantesimo del movimento valdese quindi c'è un'occasione in più forse per poter organizzare qualcosa esatto perché in qualche modo le giornate vanno sotto questo grande cappello diciamo così degli ottocento cinquant'anni del movimento valdese che cade appunto nel 2024 esatto quindi in qualche caso a volte gli eventi si guiscano coincidono si sovrappongono si aggiungono ci sta allora grazie per essere ancora stata con noi buon lavoro a te a tutto l'ufficio beni culturali e buon weekend delle giornate del patrimonio culturale metodista valdese a tutte e tutti voi ciao Ilaria grazie grazie buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti